da dove si è risalito minkì? da qui vai bomba io voglio provare a risalire direttamente sulla marca cos'è che c'è? no non ti butta devi provarci un'altra volta ma io non ti stupo in cima del papà ma dov'è che ero che ti stupavi? quando ti stupavi? dov'è che ti buttavi? quando hai paura degli scogli di tutto ma non ti fa paura che sia che ci fonda ho paura che sia freddo è genita genita ma non sai andare di tetto? è ghiacciata prende anche l'ambio questa cosa? dai lì ma che ghiacciate? io ho paura stare libri ci è stato la forno è giù è giù la forno è giù ho ok è giù ha il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Oh un po' è breve, è breve dai, è pronto al bordo no, questa è proprio perché è più caldo dai, sono in te se vai a fare il che? chi fa te o no? no, vado io a me io ne ho pochissimi andiamo io parlo? spengo salto su guarda dietro non c'è sbarco ok vieni, vado al bordo adesso andiamo a sapur aspetta racconto rocco morti passando ciao 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 vieni Comunque è fighissima, però c'è un sacco Mi piace un sacco Mi rispondi, non avevo paura E' proprio dell'acqua Tipo che tu e dell'acqua Non metti la profondità Dove? 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 Ok Torniamo verso il piano Andiamo verso il piano Andiamo verso il piano E poi torniamo E poi torniamo Fai tu allora Vieni Vieni Ma che ti senti? Se no ti fa l'effetto legissimo Guardi C'è già un po' C'è già un po' Ci si rinchi tra le palle Siediti 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 Dio Siediti Nella macchina fotografica fare qualche foto.